Il Corpo della Guardia di Finanza compie 250 anni dalla Fondazione. A Bologna un convegno in sala borsa con politici e sportivi. Non solo la lotta ai reati che riguardano la sfera dell'economia. La Guardia di Finanza fin dalla sua origine è anche impegnata sul territorio, nel volontariato, nell'impegno civico come nello sport. Così a Bologna le Fiamme Gialle hanno iniziato i festeggiamenti per i 250 anni della loro fondazione, ricordando le tante declinazioni con cui si mettono al servizio della collettività. Non ultimo il sostegno alle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio scorso. Questo è per noi motivo di grande orgoglio. Supportare la popolazione in un momento di grande difficoltà è concreta dimostrazione della nostra grande sensibilità sociale. Durante l'incontro molte le testimonianze, sia dei finanzieri impegnati nei territori colpiti, sia delle persone soccorse. Un apporto fondamentale riconosciuto anche dalle istituzioni locali e non solo e che ora si sposta sul piano del controllo a come verranno utilizzate le risorse pubbliche per la ricostruzione. La stessa attenzione è messa su altri grandi investimenti, come quelli del PNRR, e lo stesso impegno che le Fiamme Gialle mettono quotidianamente nel contrasto ai reati finanziari, dalla corruzione all'evasione fiscale, dal riciclaggio alle infiltrazioni mafiose, fino al traffico di stupefacenti e al contrabbando.